Una buona giornata, buon sabato e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale che apriamo con un'ampia pagina dedicata alla politica e alle prossime elezioni del 25 settembre. Siamo nel campo del centrodestra, Nazario Pagano alla Camera e Lorenzo Sospiri al Senato sono i capilista in Abruzzo di Forza Italia che punta sul gioco di squadra per la loro elezione in Parlamento. Questa mattina la presentazione dei candidati nelle due liste e il servizio di Andrea Costantini. Una rosa di candidati tutta abruzzese, un aspetto che ha voluto più volte rimarcare stamani il coordinatore regionale, il senatore uscente Nazario Pagano nel corso della presentazione delle liste di Forza Italia. Alla Camera con lo stesso Pagano capolista vi sono poi l'imprenditrice di Crognaletto, Francesca Persia, il consigliere regionale del Movimento Federato Valore Abruzzo, Simone Angelo Sante e il sindaco di Palombaro Consuelo Di Martino. Nel listino del Senato capolista il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, seguito dalla consigliere comunale dell'Aquila, Maria Luisa Ianni e dall'assessore regionale, Daniele Damario. Era la squadra che io avevo in mente, quella che poi sono riuscito in accordo con il coordinamento nazionale del mio partito a mettere in campo. Non abbiamo dei paracadutati, abbiamo gente che fa politica sul territorio da tanti anni e pensiamo che possa rappresentare una vera garanzia e una prospettiva di speranza di crescere per tutta la regione in Parlamento. Io penso che gli abruzzesi questo lo capiranno e fanno di tutto per mandarci in Parlamento. E' gente che conosce il territorio e io penso che questa sia una garanzia per chi deve votare per noi, perché quando si vota per le elezioni politiche non si vota solo per il simbolo, ma si deve assolutamente tornare a votare anche per le persone. In Abruzzo Forza Italia punta a mandare i due capilista in Parlamento. Tra i moderati azzurri si respira rinnovato entusiasmo per una campagna elettorale che, secondo il candidato al Senato Sospiri, porterà a una importante performance. Forza Italia è su percentuali superiori alla media nazionale del partito. Forza Italia sarà la seconda forza del centrodestra e la terza in Abruzzo, certamente. Il mantenimento della nostra rete sanitaria, tra piccoletti e minore, dipende dalla modifica corretta di un DM nazionale, si chiama DM70. Non è pensabile che la terza corsia delle nostre autostrade termini con le marche, non è pensabile che non si possa discutere di un tracciato corretto e complessivo della Pescara-Roma. Ferrovia, pensi al problema dell'autostrade A24 e A25 e al tema dei tribunali che dovrebbero chiudere e questo non deve avvenire. Cioè gli ho fatto alcuni esempi di situazioni che in un Parlamento così ristretto dei parlamentari preparati e molto convinti delle proprie ragioni possono aiutare la regione a risolvere. La Lega invece punta a portare a Roma quattro parlamentari. Anche il Carroccio questa mattina ha presentato le sette candidature nelle due liste di Camera e il Senato più quella al Collegio Uninominale di Chieti di Alberto Bagnai. Possiamo portare a Roma quattro parlamentari. Alza la sticella il coordinatore della Lega Luigi Deramo che all'Aurum di Pescara ha presentato i candidati del Carroccio nel listino della Camera dietro lo stesso Deramo che occupa la posizione numero uno. La parlamentare uscente Laura Ravetto in odore di elezione in un collegio uninominale Lombardo. Il deputato uscente Antonio Zennaro e l'assessore comunale di Pescara Maria Rita Carota. Al Senato in testa la lista c'è il capogruppo regionale Vincenzo Dincecco, la consigliera regionale Sabrina Bocchino e il direttore di Arap Antonio Morgante. Noi siamo nelle condizioni di poter eleggere due deputati nella lista proporzionale, un deputato al maggioritario e un senatore. Quindi l'obiettivo è alto, l'obiettivo è importante ma credo che lo potremo cogliere anche perché abbiamo dimostrato nel corso di questi anni amministrando comuni importanti, province, regione con ben quattro assessori che la Lega ha una marcia in più. Tutte le assunzioni di impegni che abbiamo avuto nel corso delle varie campagne elettorali li stiamo portando avanti. Una sfida che noi stiamo affrontando con il piglio giusto, abbiamo già ieri riunito solo nella provincia di Pescara, amministratori e simpatizzanti, oltre 200 persone che sono pronte e cariche per correre in questa campagna elettorale che sarà breve, sarà concisa ma all'interno della quale noi metteremo tutti i temi più importanti, convinti che il prossimo governo dovrà affrontare definitivamente una serie di nodi che questo paese attende da tanto tempo. C'è bisogno di un governo stabile ma stabile su idee e concetti chiari, la Lega ha le idee chiare, stop sbarche, quindi stop immigrazione clandestina, quota 41, flat tax, attenzione alle famiglie. La Lega ha spuntato anche una candidatura alla Camera per il centrodestra al collegio uninominale di Chieti per il senatore uscente ed economista Alberto Bagnai. Io amo questo collegio perché appartengo alla comunità accademica della Gabriele D'Annunzio da 17 anni ed è stata per me una opportunità di crescita professionale, umana, politica straordinaria. Provo un senso di profonda gratitudine di appartenenza e sono molto molto onorato, molto fiero di avere questa opportunità di poterlo rappresentare, di poter restituire qualcosa che mi ha dato tanto e di poter approfondire la conoscenza di un territorio che comunque diciamo che un pochino conosco. Parliamo di viabilità adesso perché il Consiglio di Stato ha confermato come ANAS possa continuare a gestire le autostrade laziali ed abruzzesi A24 e A25 in attesa che la Tarra del Lazio il prossimo 21 settembre si pronunci nel merito della revoca anticipata in danno della concessione a strada dei parchi del gruppo industriale abruzzese Toto. Lo ricorderete, decisione del Consiglio dei Ministri dello scorso 7 luglio. L'ordinanza è stata resa nota ieri sera dopo che nell'audienza di giovedì il collegio si era riservato una decisione. È un pronunciamento atteso che lasciò tutto impregiudicato, ovvero aperto ad ogni soluzione. Hanno sottolineato fonti di strada dei parchi SPA. Come lo stesso Consiglio di Stato evidenzia nella ordinanza resa nota le questioni di merito, tra cui i rilievi di costituzionalità del decreto di revoca del Consiglio dei Ministri, saranno esaminate al Tarra del Lazio nell'udienza di merito del 20 settembre prossimo. Ci limitiamo inoltre ad osservare che i supposti elementi urgenti sulla sicurezza stradale posti a base della decisione del giudice monocratico del Consiglio di Stato lo scorso 31 luglio non siano stati minimamente valutati e considerati, visto che nessun atto o iniziativa è stata adottata da ANAS in queste settimane di gestione. Concludono fonti interne a strada dei parchi. Abbiamo argomento adesso con importanti personalità del mondo del diritto e concerti caratterizzeranno la prima edizione del Festival della Costituzione, un programma annereto dal 2 al 4 settembre, promosso dall'Università di Teramo, Comune e Fondazione Tercas. Sindaco, si parte con un evento importantissimo, il Festival della Costituzione, Nereto, che diventa capitale della Carta Costituzionale, il documento più importante che regola la civiltà e l'ordinamento della nostra Italia. Sì, innanzitutto mi preme ringraziare il professor Di Salvatore, Enzo e l'Università di Teramo per questo importante evento che si svolgerà sul nostro territorio. Gli enti che hanno permesso, che hanno patrocinato questa iniziativa, mi permetto di dire questo simposio, quindi la Fondazione Tercas in primis, la Poliservice, la nostra partecipata pubblica, che hanno sposato questo progetto che speriamo si possa ripetere pure nei futuri anni. Diceva lei un tema molto attuale, i principi costituzionali rispetto all'attuale, al mondo odierno, quindi la guerra, la crisi energetica, mi permetto di dire anche la crisi esistenziale, anche dopo il Covid, e la difesa dei nostri principi costituzionali. Secondo me è di assoluta novità per questo territorio e vorrei usare anche forse per il territorio ebruzzese, perché si tratta della prima edizione del Festival della Costituzione, certo non tratteremo i temi, diciamo così, all'ordine del giorno posti da una parte della politica e non è questo che ci interessa, ci interessa invece seguire un filo conduttore che è quello della crisi. Quindi sono tre giorni, parto dalla fine, per la verità c'è l'ultimo giorno, 2, 3, 4 settembre, perché l'ultimo giorno è dedicato alla crisi climatica che però è anche energetica e questo si ricollega al tema del secondo giorno, cioè qual è il futuro dell'Europa rispetto a questa crisi e si ricollega a sua volta al primo giorno che è il tema della guerra e della pace. Dobbiamo riscoprire l'importanza della nostra Costituzione, è nata dopo una guerra mondiale, in questo momento in cui tornano a soffiare venti di guerra purtroppo in Europa, dobbiamo comprendere come i diritti fondamentali della persona vanno salvaguardati a tutti i livelli e come la nostra Costituzione sia in qualche modo uno specchio, uno specchio di quello che siamo, ma anche uno specchio di quello che vorremmo essere. Alberghi pieni, eventi e l'isola pedonale sul lungomare positivo, il primo bilancio sulla stagione estiva tracciato dal sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martiris. Il sindaco volge al termine il mese di agosto, alle spalle i giorni più caldi, anche da un punto di vista turistico, che bilancio possiamo già trarre per la sua città? Come è andata questa stagione estiva turistica? Il bilancio è assolutamente positivo, se volessimo parlare di un bicchiere mezzo pieno a mezzo vuoto direi che è assolutamente pieno, gli alberghi sono stati per tutta la stagione full da un punto di vista delle presenze, il territorio ha vissuto momenti importanti anche grazie alle varie manifestazioni che abbiamo tenuto sul territorio e c'è grande soddisfazione anche da un punto di vista commerciale che in questo momento non guasta perché la crisi si fa sentire e quindi una stagione importante per Montesilvano da un punto di vista turistico significa anche vita per il commercio. Tanta soddisfazione, la strada tracciata da qualche anno è quella giusta e continueremo così al fine di regalare al territorio sempre meglio. Diciamo che anche il miglioramento della qualità delle acque, l'isola pedonale e la sera sono fattori probabilmente vincenti? Sicuramente l'isola pedonale negli anni ha garantito una presenza massiccia sul territorio, ma devo dire che in questi tre anni abbiamo fatto sì che questa passeggiata, questa isola si arricchisse sempre di più e tutto questo ha portato a un boom per quello che riguarda le presenze serali e non solo sul nostro territorio. Per quello che riguarda invece la qualità delle acque, assolutamente sì, le acque di Montesilvano da anni sono eccellenti e ci auguriamo il prossimo anno peraltro di raggiungere l'obiettivo della bandiera blu, ci stiamo lavorando e sono certo che potremo raggiungere anche questo traguardo. Non solo la gente del posto, ma anche tanti turisti hanno visitato la panchina gigante inaugurata lo scorso fine luglio a Sante Marie. Per un grande paesaggio, una grande panchina. Non chiamateli panchinari, ma appassionati di natura e di montagna, nonché innamorati dei paesaggi vissuti all'alba del tramonto. Da più di qualche settimana a Sante Marie, nella riserva naturale Grotte di Luppa, c'è una big bench, ossia una grande panchina. Gialla, come giallo è il colore che simboleggia la luce, il calore, ma anche il sapere. Sindaco, lei ha stretto tra le mani il passaporto per la grande panchina che è alle sue spalle, cioè per chi viene a fare questa esperienza unica nel suo genere per quanto riguarda l'Abruzzo, ma tutto il territorio, di fronte alla grande panchina un panorama veramente mozzafiato. Quindi quando si viene qui nella riserva naturale di Sante Marie, veramente si può toccare il cielo con un dito, anche grazie ad una panchina come questa. È vero, la scelta di mettere qui la grande panchina è stata una scelta felice per l'amministrazione comunale e per tutto il territorio del comune di Sante Marie. Qui siamo all'interno della riserva naturale Grotte di Luppa, che anche se il territorio era bellissimo, era poco frequentato da parte dei visitatori e dei turisti, nonostante che sia la grande panchina sul grande cammino dei briganti che parte da Sante Marie e arriva a Potenza. La cosa bella è, messa la grande panchina abbiamo avuto un espluato di visitatori incredibile, se voi pensate che l'abbiamo inaugurato il 30 luglio, nel giro di 15-20 giorni sono arrivate circa 500 persone da tutte le parti d'Italia a visitare la grande panchina. Il passaporto è un'altra cosa che abbiamo fatto, avevamo 30 passaporti collegati con l'Associazione Nazionale delle grandi panchine, sono terminati nel giro dei 4 giorni. La cosa bella è che veramente noi, così facendo questa scelta di mettere la panchina sulla riserva naturale Grotte di Luppa, permettiamo a tanti visitatori di poter oltre osservare le bellezze del nostro territorio, anche se fare le bellezze del nostro territorio della Marsia perché è come un balcone sulla Marsia che vediamo tutti i piani parentini fino ad Avezzano. Si conclude questa sera l'arena della Civitella di Chieti con la musica dei Planet Funk, la rassegna Finarelli, tempi di bilanci sugli eventi dell'estate teatina, preannunciando le due date di settembre con la comicità di Bregnano e la voce di Elisa, il servizio di Seregna Secondi. Continueranno fino a settembre gli appuntamenti del cartellone dell'estate teatina, a settembre sarà la volta di Bregnano e Elisa, ma prima, per concludere, agosto, nuovo appuntamento all'Ostellario con due nomi importanti. Esattamente, concludiamo la stagione di intrattenimento legata all'Ostellario, quindi alla discoteca anche legata ai più giovani, con due nomi molto autorevoli del panorama musicale internazionale della disco che sono Carl Craig e Alex Neri dei Planet Funk. A seguire il 10 settembre avremo un ulteriore grande nome nel mondo del cabaret che è Enrico Brignano, per concludere definitivamente la stagione con un grandissimo evento, il 20 settembre con Elisa e di questo siamo molto soddisfatti che questa tappa si terrà a Chieti dopo il grande successo di Venditti e De Gregori, DLP, Maurizio Battista, insomma davvero una stagione di successi per la Civitella e per la città. Il sold out con De Gregori e Venditti, 3.500 presenze, ha dichiarato che Chieti è diventata una meta di spettacoli? Sì, una meta soprattutto per i grandi eventi e non solo musica di qualità che ha portato un turismo importante in città dando dei benefici evidenti alle strutture ricettive e al tessuto commerciale cittadino, continuiamo in questa direzione con questi altri grandi eventi che si terranno tra agosto e settembre. Ora si sta lavorando in vista degli eventi scalini che ci saranno a metà settembre? Sì, infatti stiamo lavorando a questi eventi per tutta la settimana proprio su Chieti Scalo, partendo da, abbiamo dato questa innovazione, partiamo da Berciarola fino ad arrivare da San Martino e sabato 17 settembre, che poi c'è anche la ricorrenza della festa del Santissimo Crocifisso, avremo un artista di richiamo e una grande isola pedonale per dare benefici al tessuto commerciale anche legato al centro di Chieti Scalo e ci sarà un artista con una notte gialla che darà la possibilità anche a tutte le strade di questa grande isola pedonale di provvedere a un intrattenimento, a dei tavoli all'esterno, a degli spettacoli e quindi insomma una grandissima bolla, una grandissima area pedonale con intrattenimento musicale, con un grande artista. La pianista abruzzese Maria Gabriella Castiglione domenica si esibirà a Silvi nella sala convegni della parrocchia Santissima Assunta con un recital di pianoforte. Mentre prosegue con grande successo Musica nel Parco, Maria Gabriella Castiglione domenica si esibirà a Silvi in un recital per pianoforte, una iniziativa molto sentita, molto importante. Sì, molto importante ma sono veramente molto contenta di venire ad esibirmi a Silvi Marina, quindi a due passi qui da Pescara, perché è stato molto richiesto questo concerto in quanto sto vedendo che nei cartelloni estivi, oltre alle giornate di intrattenimento oppure di festa, quindi le sagre, i fuochi d'artificio, i cantanti di musica leggera, che comunque è giusto che ci sia, mettono e iniziano a inserire anche concerti di riflessione, quindi concerti di spessore culturale. A Silvi ascolterete un percorso molto originale che parte da Bach, io parto sempre da Bach perché è stato il fondatore della musica, percorrendo un po' tutta la storia della musica, quindi da Bach a Chopin che è praticamente il re della musica per pianoforte, Rachmaninoff il più grande autore della musica per pianoforte che noi sappiamo, fino a Storpiazzolla, con i tanghi di Storpiazzolla, poi passiamo per le colonne sonore da film premiati con gli Oscar di Rikisakamoto e per passare poi alla fine con alcuni bis, ma non voglio dire tutto, altrimenti non c'è la sorpresa. L'ingresso è gratuito, domenica 28 alle 21.15 alla Chiesa dell'Assunta a Silvi Marina, facilmente ritrovabile. All'interno c'è un auditorium che mi è stato concesso e quindi ringrazio ovviamente il comune di Silvi perché è stato ben disposto a organizzare questo evento che poi alla fine l'abbiamo fatto con poco perché spesso si pensa che la musica classica c'è sempre una barriera, no? Invece alla fine c'è molta più complicità e facilità nell'organizzazione che magari è un grande evento in cui bisogna chiamare i vigili, il fuoco e quant'altro, quindi invito veramente tutti quanti. Sport adesso calcio di serie C, inizio di campionato difficile per il Pescara che nelle prime cinque giornate affronterà tre delle potenziali protagoniste del Giro Neccia. Avellino al debutto all'Adriatico Cornacchia, il Crotone alla terza, sempre a Pescara e la trasferta di Foggia alla quinta giornata. Facciamo il punto nel servizio. È un inizio in salita quello che aspetta il Pescara. Per i biancazzurri c'è subito un match probante. Il campionato inizierà il 4 settembre all'Adriatico Cornacchia contro l'Avellino. Delfino subito contro il fresco ex Illanes, mentre non ci sarà il neo biancazzurro Aloi, arrivato proprio dagli Irpini, infortunato e squalificato per la prima. Improbabile la presenza degli altri ex nelle fila degli Irpini. Riccardo Magnero e Gennaro Scognamiglio sono sul mercato e potrebbero partire entro fine mese. La prima trasferta domenica 11 settembre alla Francioni di Latina contro la squadra del DS abruzzese Marcello Di Giuseppe che ha pescato dall'Abruzzo l'ex attaccante del Chieti, Luca Fabrizi e giorni fa ha acquistato un altro attaccante, Margiotta. Alla terza giornata un'altra Bigal Adriatico, l'appena retrocesso Crotone di un altro ex Franco Lerda tra le candidate ad un campionato di vertice. Alla quarta giornata Pescara di scena a Viterbo e poi seconda trasferta consecutiva e altro Big Match. Quinta giornata il 25 settembre per altro Election Day allo stadio Zaccheria, Foggia Pescara. Sì, direi che l'inizio in casa è stimolante sia per giocare all'Adriatico sia per gli avversari perché tra la prima e la terza giornata abbiamo già due Big del girone e chiaramente poi anche tutti gli avversari in questo inizio di campionato dove le squadre potrebbero non essere al 100% sono insidiose come potremmo avere tutte le possibilità di giocarci le nostre carte. In questo momento noi abbiamo bisogno di trovare la nostra identità e soprattutto c'è la curiosità di vedere la squadra all'opera in competizioni ufficiali per come può reagire anche dal punto di vista della pressione e delle reazioni alla partita vera. Chi invece non parteciperà al campionato di Lega Pro e il Teramo che dopo l'esclusione da parte del Consiglio di Stato adesso deve pensare al proprio futuro, ma la strada che porta alla Serie D è tutt'altro che scontata, per questo il rischio è di cadere molto più in basso. Sfumata la Serie C, ma questa era tutt'altro che una sorpresa, a Teramo ci si interroga su quale sarà la categoria da cui ripartire. Ero pomeriggio l'amministrazione comunale, il sindaco Giacomito D'Alberto, nel prendere atto dell'ordinanza ha già espresso, grazie al lavoro svolto dalla Commissione nei giorni scorsi, una valutazione di accreditamento positiva, si legge, circa il progetto della nuova SS di Città di Teramo, a cui hanno contribuito circa 40 imprenditori teramani. Questo è quanto si legge nella nota che precisa come resta inteso che ogni decisione finale è devoluta alla FIGC, ai sensi dell'articolo 52,10 delle NOIF, alla quale unicamente compete l'esercizio della facoltà di ammettere il luogo della società esclusa una nuova società ai fini della partecipazione al campionato, anche in sovrannumero, di Serie D. Ma la strada per la quarta serie non è così semplice, posto che solo all'organo federale spetta la scelta e che in passato mai si era arrivati a fine agosto con questa situazione. È evidente che è stato perso tempo che oggi sarebbe stato utilissimo, posta la legittimità di provare a far valere in ogni stede le proprie ragioni. Ma adesso c'è da fare i conti con la realtà e quella attuale dice che in eccellenza non ci sarà certamente spazio. In Serie D la questione è quantomeno complessa, i rapporti con gli organi federali e ai minimi storici ed ecco allora che dinanzi al diavolo potrebbero spalancarsi le porte di un campionato molto più in basso. Nessuno oggi può dire con assoluta certezza quale sarà la fine di questa vicenda. Anche la LND, che già aveva a che fare con un numero superiore a quante se ne aspettasse di squadre, aveva lasciato intendere che l'automatismo no Serie C, quindi Serie D, non era così giusto. Per questo servirà la diplomazia del primo cittadino, ammesso che basti, per evitare il baratro della prima categoria. A meno che non si voglia ripartire dal campionato di promozione, ad esempio con il piano della lenta, ma questo è un altro discorso, perché di margini per la quarta serie ce ne sono pochi e chi ha sperato nei ricorsi, sperando che poi in ogni caso ci sarebbe stato un paracaduto e una caduta discretamente comoda, come il Girona F di Serie D, evidentemente si sbagliava e non di poco. Teramo Calcio 1913, che tuttavia vedrà iscritta al proprio campionato alla squadra femminile, è evidente che le attenzioni sono concentrate sul futuro del calcio bianco-rosso maschile. Nel frattempo c'è stato lo svincolo dei tesserati, coloro che erano sotto contratto e non avevano trovato altra squadra, ora sono liberi. Il progetto è tutto da costruire, ma prima va individuato il luogo, che nello specifico è la categoria di appartenenza e non è affatto un dettaglio. Primo turno di Coppa Italia invece in Serie D con vista campionato per quattro abruzzesi del Girona F. Derby a Pineto, mentre per Chieti e Vastese ci sono Porto Dascoli e Vasto Girardi. Antipasto di campionato per le abruzzesi di Serie D con il primo turno di Coppa Italia che vedrà in campo quattro delle cinque partecipanti al prossimo Girona F. Un derby, quello del Mariani Pavone di Pineto, dove i parroni di casa affrontano il notaresco, formazioni profondamente rinnovate, specie ai rosso-blu che dopo l'addio di Salvatore Di Giovanni hanno ridisegnato completamente il progetto calcistico. Continuità con Amalo in panchina invece per il Pineto che come ultimo arrivo in ordine di tempo ha ingaggiato il difensore classe 2002, Luccarini. Per lui sette presenze in Serie D nella stagione 2019-2020 con la Jesina e tanta gavetta in eccellenza con il club marchigiano. L'ultima sgambata di Montorio ha confermato quanto i biancazzurri siano formazione attrezzata per lottare ai massimi vertici del raggruppamento. A Notaresco invece c'è entusiasmo per il nuovo progetto. È un roster che è un mix tra giovani e meno giovani, ma con la consapevolezza che va messa prima in sicurezza la categoria. Sfida particolare per Francesco Maio, freschissimo ex di questo turno di Coppa. Il bomber del Pineto affronta quel notaresco che l'anno passato, pur tra mille difficoltà, ha tenuto spesso in piedi con tanti gol. L'attaccante Palmisano e il difensore Spinelli invece sono gli ultimi arrivi in casa Chieti, anch'esso molto diverso rispetto a quello della passata stagione. I neroverdi di Corrado Cotta se la vedranno con quel portodascoli che una settimana fa nel turno preliminare hanno eliminato l'Avezano regolandolo per 2-1. Per Palmisano si tratta di un ritorno, ma è evidente che Chieti avrà bisogno di tempo per amalgamare una rosa nuova e che sarà presentata dopo il match di Coppa alle 21 in Piazza Vico. Un modo per raccogliere il calore della tifoseria per poi buttarsi a capofitto sulla prima di campionato del 4 settembre contro quel vasto Girardi che invece sarà l'avversario di una vastese che ha messo a segno nelle ultime ore in attacco. Il colpo Giovanni Ricciardo che però come minchillo dovrebbe partire dalla panchina. Anche qui per Ferrazzoli servirà tempo per dare l'assetto definitivo ad un organico che vede appena due superstiti della passata stagione, Sansone e Altobelli. Ma l'arrivo di Ricciardo cambia gli equilibri davanti, soprattutto perché si parla di un attaccante che ha una carriera condita da esperienze importanti e vincenti e nelle quali ha contribuito al raggiungimento degli obiettivi grazie al vizio del gol che non gli è mai mancato. Il reparto offensivo biancorosso che aveva già a disposizione Di Nardo e Calì che partiranno domani dall'inizio con l'arrivo di Ricciardo si dota di una bocca da fuoco come in giro, ce ne sono poche. Vole adesso lo schiacciatore Sebastiano Milan è una delle punte di diamante del mercato dell'Abbapineto che ha come obiettivo la promozione in categoria superiore. Per Milan numeri davvero di grande prestigio visto che ha all'attivo più di 214 incontri tra Superlega e A2. Ai nostri microfoni spiega la scelta di raggiungere l'Abruzzo e giocarsi le chance con la casacca dell'Abbapineto in servizio di Sergio Zappalorto. Allora Sebastiano Milan, detto Seba, facciamo così, ti conosceranno tutti, è il pezzo pregiato della collezione. È la domanda più scontata, che cosa ti ha convinto a scendere in A3 perché tu hai sempre giocato ad altissimi livelli in questa superlega? Allora l'entusiasmo, l'entusiasmo della società, del coach, del presidente, del DS Massimo Forese, nel volermi al centro di questo progetto, sono stati fondamentali per la mia scelta. Io non guardo in faccia le categorie, ho avuto il piacere, la fortuna di poter giocare in Superlega, in A2, quest'anno in A3. Non guardo in faccia la categoria, guardo in faccia la società dove devo andare a giocare e ripeto, per me è fondamentale che si crei una bella atmosfera e che mi carica. Poi il nostro sport è fatto molto di emozioni, quindi essere in un ambiente che ti ben vuole, che ti dà stimoli è importantissimo, quindi questo è stato sicuramente l'aspetto più importante. Sai che una parola d'ordine, lo dico anche a te, come l'ho detto a Jacob, è tornare in A2. Assolutamente, assolutamente. E direttamente, con una realtà che comunque è una sua storia, questa è una bella tradizione di qualche anno fa e non soltanto di qualche anno fa. C'è un gran pubblico e quindi sono tutte le premesse per fare bene e avete anche un ottimo allenatore che sicuramente conosci. Assolutamente sì, con Giacomo tra l'altro ho vissuto due esperienze bellissime con la nazionale, una ai giochi mediterraneo e una alle universie di due medaglie d'oro che porterò per sempre con me. Pensa che io mi ricordo quando andavo a fare servizio campo al Palaverde con la Sisle Treviso e Pineto era in Serie A1, quindi non c'è bisogno di citare l'importanza di questa realtà per non solo il territorio regionale ma anche per quello nazionale. Ci proveremo, sarà difficile, Pineto viene da due anni molto buoni perché una semifinale e una finale conquistata sono due risultati ottimi, non sarà facile ripetersi però siamo qui per questo e dobbiamo lavorare per questo. E questo era anche il nostro ultimo servizio, vi ricordo che sul nostro sito web www.tv6.it i contributi che avete visto nel nostro telegiornale e anche tante altre notizie, il TG6 torna alle ore 19 con la seconda edizione, grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata.